Un nuovo centro vaccinale alle porte di Vicenza. In vista del trasloco dalla fiera, l'Ulsotto ha cercato una nuova sede per l'Hub dove verranno effettuati anche i tamponi. Una struttura che abbia ampie metrature e parcheggi dove non vi siano barriere architettoniche. L'identikit ideale c'è ed è a Torri di Quartesolo. Eccolo! È una struttura di 15.000 metri quadrati di uffici, una struttura molto importante. Diciamo che è un pregio, è un difetto, è una struttura molto grande che potrebbe dare possibilità per ampi utilizzi. Però essendo molto grande è anche difficile da piazzare. Il palazzo, costruito come centro meccanografico per la Banca Cattolica del Veneto nel 1975, oggi è inutilizzato. Penso che sia una buona soluzione sia per lo spazio che c'è, sia per il fatto che siamo alle porte di Vicenza, veramente siamo a pochi metri dal confine e diciamo che è un centro che adesso serve anche a tutta la zona ad est di Vicenza che fino a questo momento non è stata molto servita. Ora non resta che un ultimo sopralluogo per verificare i requisiti e per definire il piano del trasloco delle strutture con i box vaccinali senza interrompere le sessioni di vaccinazione già prenotate. Così, lasciata alla porta ovest, il nuovo hub nascerà ad est. Ovviamente mancano gli ultimi dettagli, questa è un'anticipazione, ma tutto fa pensare che l'operazione andrà in porto, anche perché il trasloco dalla fiera dovrà avvenire entro la fine di luglio. Creare un altro sito dovrà essere fatto in tempi molto rapidi. Grazie. 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 Grazie.